Allora buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla Fondazione Besso. Continua il nostro ciclo di conferenze romane, oggi 21 aprile Natale di Roma, con il presidente della Dante Lighieri, l'amico professor Andrea Riccardi, con la professoressa Rita Giuliani. Il tema è Gogol, Gogol a Roma, qui ho un ricordo personale perché quando qualche secolo fa mi misi in testa che dovevo imparare il russo, andai alla biblioteca Gogol, che all'epoca stava a Palazzo Braschi, e dove c'era un covo di russi bianchi essenzialmente, con tutti i simboli dello Tsar, con le carte della Russia imperiale, eccetera. Naturalmente il russo non lo imparai, però imparai l'esistenza di questa biblioteca, che mi risulta esistere ancora, sia pure traslocata altrove, e esistono, vi garantisco, anche i russi bianchi, tra i quali annovererei senz'altro anche ad honorem Vladimir Vladimirovich Putin, che più bianco di lui se more, come si dice a Roma. L'occasione è anche, dal mio punto di vista, un tentativo di cercare di poter parlare in questo momento un po' emotivo di cultura russa, malgrado la Russia abbia invaso l'Ucraina, perché vedo che molto spesso invece si usa calare un velo di autocensura, spesso di censura qualche volta, come se non si potesse più parlare di questi gioielli della cultura mondiale, che sono i classici della letteratura russa, tra i quali certamente Gogol spicca. e per questa scelta e per altri motivi, in particolare per la bellezza anche del, peraltro, discusso, saggio racconto che Gogol scrisse su Roma, quando era qui, come sappiamo, visse diversi anni in questa nostra città, due riprese, e fu per lui un momento anche piuttosto trascendentale, sotto l'aspetto sia spirituale che fisico, fu con gli alti e bassi che gli erano tipici perché soffriva di momenti depressivi acuti, come anche di momenti di grande esaltazione, insomma era una forma di bipolarismo antelitteram. Per lui Roma fu, come ci dirà sicuramente la professoressa Giuliani, che di Gogol è massima esperta, fu un momento particolare di crescita, poi di visioni più problematiche su quello che era questa meravigliosa città, che un po' lo seduceva, un po' lo deprimeva, e che gli ispirò, fra l'altro, le anime morte e molte altre delle sue opere, alcune anche non finite. Quindi l'occasione di ricordare questo grande scrittore, che è suddito dell'impero russo, nato però in una città che oggi parte della Repubblica di Ucraina, ci permette di riandare al ruolo che Roma ha sempre avuto, ha e credo avrà, nella visione russa del mondo, in particolare nella visione degli suoi intellettuali, dei suoi classici, e che ha segnato fin dall'inizio, direi, il percorso di quel paese e di quella civiltà. Quindi sotto questo profilo, io credo che questo incontro sarà interessante, sarà introdotto da Andrea Riccardi, che ci darà un inquadramento storico, io credo, della vicenda gogoliana a Roma, e poi con un'inclinazione più letteraria e di analisi dei suoi lavori, in particolare appunto del suo racconto romano, Rita Giuliani. Quindi io darei senz'altro la parola a Andrea Riccardi. Grazie. Nel centenario dantesco, Dante si è imposto come una figura allo stesso tempo italiana, europea, universale, nel senso che, e qui penso al libro di Giulio Ferroni, L'Italia di Dante, nel senso che ha aiutato gli italiani a capire le radici del proprio paese. Ma il suo messaggio è andato ben al di là delle frontiere, dal, da Ismail Cadare, Dante l'Inevitabile, ai saggi tanteschi di Borges, ripubblicati da Delphi, fino alle traduzioni in ucraino di Ivan Franco. Perché, come diceva Lucio Caracciolo, cultura, letteratura, pensiero non conoscono le frontiere, anche se sono radicate in un paese, anche se sono figlie di una storia. E in questo momento noi sentiamo che le frontiere esistono e sono pesanti perché assumono il volto di un conflitto accanito dopo che la Russia ha violato le frontiere ucraine. Non che la letteratura, la cultura, il pensiero siano neutrali, ma il loro patrimonio appartiene a tutti. E proprio oggi Gogol appartiene a Roma e Roma appartiene al grande scrittore russo. Nato a Poltava, in Ucraina, sceglie di scrivere in russo, anche se mi dicono che la sua lingua risente delle origini ucraine e porta la cultura popolare della sua terra, Gogol appartiene a tutti e appartiene a Roma, almeno limitatamente a questo stupendo e discusso volumetto Roma, che in fondo era dimenticato, tranne che tra gli specialisti. Nel panslavismo russo ottocentesco l'Ucraina viene considerata come un'invenzione della Polonia, tutta tesa ad impedire l'unione dei popoli slavi nel grembo della Santa Russia. Ma qui il discorso porterebbe a una riflessione sull'invenzione ottocentesca delle nazioni, invenzione figlia dell'epica, della cultura, della politica, se non del suolo e del sangue, per i nostri amici tedeschi. Ma la realtà, quella che anche noi vediamo oggi nell'est europeo e in Ucraina, che aveva ragione Renan, che cos'è una nazione? Si chiedeva e affermava che la nazione è due cose, è un plebiscito di tutti i giorni e quanto conta il plebiscito di tutti i giorni, ma è anche il punto di arrivo di un lungo passato di sforzi, tradizioni e sacrifici. I nazionalismi ottocenteschi, frutto di operazioni culturali e di volontarismo elitario, mi sembra differiscano tanto dai nazionalismi di oggi, dai nazionalismi di questo tempo globale, diciamo dai nazionalismi antiglobali, anche perché scarseggiano di cultura. Ma il nostro problema oggi e ora non è il senso della nazione, ma è il senso della città e credo che questo mondo globale ha bisogno di riscoprire il senso, l'identità, la forza delle città e di quella particolare città che si chiama Roma. Roma ha segnato in profondità Gogol, tanto che Rita Giuliani afferma, e qui parlo sotto il suo controllo, è un po' pieno di vergogna, per questo dico preferito parlare per primo perché altrimenti se parlava lei avrei dovuto solo tacere e Lucio si arrabbiava perché veniva un discorso troppo corto. Ma Rita Giuliani dice il rapporto personale e creativo che legò Gogol a Roma fu talmente profondo e ricco di implicazioni da consentire di affermare l'assoluta geometrica centralità della città eterna nella vita dello scrittore e nell'evoluzione della sua visione del mondo e dell'arte. Ma può Roma toccare tanto? Beh, Gogol ce lo spiega in queste pagine e suscita subito in noi, che abbiamo promosso queste conversazioni romane? Un'altra domanda, e un'altra domanda drammatica. Potrà Roma toccare, esercitare un'attrazione oggi? Quando oggi questa città sembra sponvista di magia, di spiritus loci, che invece si ritrovano nel libretto del grande scrittore? Questa è la domanda che attraversa tutte queste conversazioni romane, volute dalla Fondazione Besso e dalla Dante. Vogliamo ricominciare a parlare pacatamente di Roma, perché di Roma non si parla. Si parla di guai di Roma, della politica Roma, ma non si parla di Roma in una visione globale. Non per celebrare, ma per richiamare la visione della città al di là della coltre, dell'affrettato vivere quotidiano. Perché c'è qualcosa d'oltre. Tu, Lucio, concludevi con un'affermazione di fiducia, ma questa affermazione di fiducia un po' forse nasce anche dalla disperazione, ma questa affermazione di fiducia nasce dall'intuizione che c'è qualcosa oltre, qualcosa che deve essere mostrato e dimostrato. Innanzitutto vorrei dire c'è, non so se posso usare questa parola, un canone letterario romano, originale rispetto agli altri canoni, quello occidentale, quello europeo. E Roma di Gogol ne fa parte a pieno titolo. E tanti autori immaginano di cogliere o colgono l'anima di Roma, convinti che non si può stare a Roma senza un'idea o senza i famosi propositi universali di Monsen. Non si tratta di calare dall'alto un'ideologia. L'ultima grande operazione fu fatta dal fascismo e scivolò nel retorico, o anche fu fatta con mezzi minori da Pio XII, il Papa due volte romano, come si diceva, quando propose l'urbe come modello di città cristiana scontrandosi con la realtà. Si tratta qui di far riappropriare i Romani e Roma della propria storia con i tanti volti. Non un'opera di erudizione di pochi, ma la coscienza diffusa, l'orgoglio di vivere e di essere partecipi di una città che è città storica. Questo si respira nelle pagine, di Gogol, quando parla di Roma. Una città storica che non è una città archeologica, ma viva. L'ho già detto, in un mondo globalizzato le identità sono decisive, esposti come siamo ai venti di un universo troppo grande e tentati di costruire muri ereticolati per paura. Le identità nazionali soffrono nel mondo globale e c'è bisogno di un'identità positiva, essere parte del destino di una città. E la città europea è una città storica, così quella italiana. E Roma, in qualche misura, è modello della città storica, tanto da diventarlo per Costantinopoli e anche per Mosca, ma anche per un altro insieme di città che si ispirano all'essere nuova Roma. Tanto che mi permetto di parlare di un canone letterario romano. Gogol percepisce Roma città storica nel confronto con Parigi. Dice, la stessa Parigi, eterna attrazione per gli stranieri, eterna passione dei parigini, già non gli sembrava più quella di prima. Notò come tutta la poliedricità e operosità della sua vita, scomparivano senza conclusione alcuna e senza nessun sedimento spirituale fruttuoso. Nel movimento del suo eterno ribollire, concludeva Gogol, ribollire di attività, egli scorgeva ora una strana immobilità, uno spaventoso predominio delle parole sui fatti. È abbastanza interessante questa affermazione di Parigi che resta eterna attrazione per gli stranieri, ma che è anche passione per i parigini. E qui una prima differenza, Roma non è passione per i romani. E questo è un fatto fondamentale. Diciamo, i romani non si sentono amati e non amano la loro città. Ma questa contrapposizione ottocentesca tra Roma e Parigi è molto interessante, è ricorrente. Il polemista cattolico ultramontano Veillot nel 61 e poi nel 66 scrive due libri che giocano sul contrapposto, Le parfume de Rome e l'esodeur de Paris. C'è qui la contrapposizione tra la città santa, la città del cattolicesimo intransigente, l'urbe di Pio IX. Gogol lo vede appena eletto e dice che non è antipatico. Con Parigi, capitale della modernità liberale, ritorna nell'apologetica cattolica antimoderna. Ma Gogol non si scrive in questa storia, perché il suo passaggio per Roma non è il passaggio di tante figure, di alcune figure dell'intelligenza dell'aristocrazia russa che si convertono al cattolicesimo. C'è questa attrazione di conversioni fino a Ivanov e sui russi, riguardo a Roma, questa universalità del cattolicesimo. No, lui è russo ed è ortodosso e non è nemmeno un archeologo e non è nemmeno un artista nel senso professionale, seppure apprezza la vita culturale e artistica di Roma, non è Winkelmann. Ma, come scrive Rita Giuliani, Roma diventa per lui un particolarissimo strumento ottico per mettere a fuoco la propria visione del mondo. Eppure, leggendo questo libretto, affascinati ma anche returbati dalla passione di Gogol per la città e per quell'insieme di archeologia, monumenti, vicoli, odori, donne, carnevale, percepito nella sua unitarietà, la sensazione che noi abbiamo è che è una stupenda cartolina di Roma sparita. Sì, perché quella Roma c'è stata, è reale, è originale quella Roma prima dell'unità. E in questo senso potrei allineare tante espressioni di Gogol. Ma lo dice anche la stessa frase di Gregorovius, che è nell'invito al nostro incontro, Roma è silenziosa e pesante, come fuori dal mondo, come intrecciata a se stessa, è incantata. Insomma, c'è una cesura, c'è una frattura fra quella Roma e la Roma del dopo. Rita Giuliani, credo, dirà quanto Roma abbia influito sull'ispirazione e la scrittura di Gogol. Da parte mia voglio solo chiedermi se quella Roma non è sparita per sempre. Era una Roma assurda, anche allora, fuori del tempo. Quando ero giovane ho studiato il Concilio Vaticano I e le corrispondenze, i diari dei vescovi francesi a Roma per alcuni mesi, che poi sono gli ultimi mesi del potere papale, lamentano lo stato di arretratezza di Roma, le strade, l'assenza di giornali, che era fuori del mondo. Insomma, leggevano a Parigi l'Esodeur de Paris, ma a Roma vedevano una città che non piaceva a dei francesi o dei parigini, che benché intransigenti, erano moderni. Eppure così fuori dal tempo Roma attraeva artisti del mondo, i russi che si radunavano a Palazzo Poli, ma anche al Caffè Greco, fondato nel 1760, dove ci sono stati tutti, da Byron a Michievicz, Zalitz, fino a Wagner. E qui Gogol scrisse nel 42, della Russia io posso scrivere solo a Roma, solo qui essa mi appare in tutta la sua grandezza. Ma questa attrattività di una città fuori del mondo è finita e non significa più molto oggi, non significa più per i romani. Come non significano le ideologie e i miti calati volontaristicamente su una città che li rifiuta perché scettica, composita e oggi anche multietnica. Come fatica ad avere un significato questo 21 aprile Natale di Roma? E mi piace celebrarlo così, mi piace celebrarlo in un modo pensoso, quel Natale di Roma che il fascismo ha recuperato nel 24 e che è stata però anche festa della Repubblica Romana. Del resto le idee di Roma, di quella Roma sparita, non erano imposte dall'alto, dai papi, ma emergevano dalla vita, dalle scelte urbanistiche, dai gruppi sociali che abitavano qui. Così respirava Gogol e rimando alle sue pagine non solo sulla vita della città ma sul popolo di Roma. Ma oggi in fondo Roma, io penso sempre che Roma è l'unica città italiana dove la componente locale si è evaporata o diluita, prima con l'emigrazione dal nord, i buzzurri, poi con quella dal sud, fino a ieri, e con l'emigrazione degli ultimi trent'anni. E Luca Serianni in un piccolo libretto ci ha mostrato come è cambiato il modo di parlare dei romani. E del resto la grande periferia che è cresciuta, lo svuotamento di popolazione del centro, non rappresentano il divorzio dalla città di Eri, dalla città di Gogol che arriva, si trascina fino a fine ottocento. E aggiungo l'internazionalizzazione della curia romana dalla metà del novecento non significa la frattura di quel mondo, si diceva della prelatura romana, della chiesa romana, fino a fare della santa sede un'istituzione internazionale sul modello dell'UNESCO o del palazzo di vetro. Qual è la risposta? Non certo che si possa fermare il tempo e la storia. La storia è andata avanti, Roma si è ingrandita e rimpicciolita. E poi il tempo globale dalla caduta del muro ha significato un ripiegamento del nostro paese, un'introversione e la capitale ha seguito. Qualche volta parlando con Lucio ricordiamo la Roma della guerra fredda che era una centrale di politica internazionale dove il governo italiano atlantista faceva delle sortite politiche originali, dove la diplomazia vaticana gestiva la politica orientale, i rapporti con i paesi comunisti, mentre dal 68 Papa Voitila nell'urbe preparava la crisi del sistema dell'est. Ma anche Roma dove agiva il più grosso partito comunista dell'Occidente con una vasta rete diplomatica. Oggi Roma, ma puoi dirlo tu meglio di me, è una piazza internazionale di secondo ordine. Eppure questa città ha una profondità particolare che bisogna fare emergere. Lo dico e lo ripeto, una città storica e nel suo carattere di città storica c'è un significato per gli altri. Come gli altri ti guardano vuol dire qualcosa anche per te. Oggi esaminiamo lo sguardo di Gogol, ma quanti sguardi di grandi personaggi e di umili personaggi e di popoli interi. Quando dici Roma in certe regioni del mondo si illuminano gli occhi della gente, si illuminano. Non lo so perché, non lo so come, ma l'ho visto. Nel 1975 Violetta Parra, rilanciata dagli lentillimani, riguardo al colpo di stato di Pinochet, diceva che dirà il Santo Padre che vive in Roma, che le stan degogliando sus palomas, che dirà il Santo Padre che vive a Roma. Roma. Come gli altri vedono Roma ci interessa e fa parte del nostro vissuto ed è anche un nostro patrimonio. Questa coscienza storica e attuale contribuisce a creare un noi, un senso di comune appartenenza che sembra smarrito. Ma non solo perché Roma è quella che è, non solo perché Roma è una città che ci sembra poco vivibile, ma perché siamo in un tempo di individui, di tanti io, i quali riscoprono l'insieme solo populisticamente contro qualcuno. E il terreno antropologico di tanti io è resistente allo sviluppo di un senso comune, maturo di appartenenza, un senso che non sia un'emozione contro. È il terreno dello sviluppo dei populismi. Ma per ritornare a Gogol, a Roma si sviluppò la coscienza della sua vocazione di scrittore russo. Coscienza, mi sembra che lei dice quasi di apostolo, coscienza messianica. Che strano per la nostra cultura e letteratura italiana. Spesso Gogol parla della sua preghiera nelle chiese di Roma. Ma com'è possibile per un ortodosso pregare nelle chiese barocche o nelle chiese romane, così diverse da quelle russo-ortodosse? Per un ortodosso abituato al canone delle icone, pregare di fronte alla multiforme pittura delle chiese romane? Un altro russo, il vice procuratore del sinodo, Muraviov, che era anche uno storico, fu mandato dallo zar Nicola I nel 45, 845, a preparare la sua visita a Roma, ma anche con una missione riservata. Lo zar voleva capire perché, qual era il motivo dell'attrazione degli aristocratici russi verso il cattolicesimo. e Muraviov non la capisce. Critica la liturgia, le messe di dieci minuti, il culto nelle chiese romane. È un vero ortodosso, è un vero ortodosso. E invece in questo mondo romano, lo dice anche Pier Pascal, Gogol non si convertì, restò ortodosso, ma divenne un cristiano interiorizzato e pregava nelle sue chiese. Cioè il cattolicesimo di Roma diede qualcosa a Gogol. Nel 1838 scrive alla Balabina, soltanto a Roma si prega, negli altri posti si finge di pregare. È una frase che mi colpisce perché da Lutero in poi, chi è molto credente, Roma veduta, fede perduta. Perché? Come? Se l'ha detto il Papa. Però lui dice Roma è una città dove si prega. Alludi alle liturgie papali che facevano l'ammirazione dei viaggiatori dell'Ottocento che andavano a sentire i Vespri a San Paolo per questioni coristiche o al silenzio delle chiese. Non dimentichiamo il vivo senso liturgico di Gogol che ha scritto, e questo è meno noto di Roma, meditazioni sulla divina liturgia, sulla liturgia ortodossa, lo cui spirito di fondo è che la fede e la preghiera possono trasfigurare tutto, l'uomo e la donna, il carattere umano, i problemi della vita e della società. Questa affermazione di Gogol, se volete in modo un po' inconsueto, è un ragionamento un po' inconsueto, mi ha posto in interrogativo. Una città dove si prega è una città che non è banalizzata alla vita quotidiana, ma che crede in un oltre qualunque esso sia. Sì, Roma è anche la città dell'oltre. Delle chiese disperse nella triste periferia, di una visione della sua realtà trasfigurata, di un papa che parla di pace in tempo di guerra, è una città dove lo sguardo intristito dei Romani si incrocia con quello entusiasta degli altri. Insomma, ci sono tanti, e concludo, e confusi, e ricchi, e contradditori, frammenti di questo oltre che esiste, che sono un motivo di identità, permettetemi di dire, di orgoglio. Pazienza, ricerca, fantasia possono dire meglio ai Romani che cos'è Roma. Non è un'operazione facile. Forse è la ricostruzione morale della città che si sente dispersa, ma che è piantata sulla storia. Proviamo a guardare Roma con gli occhi di Gogol e con gli occhi degli altri, perché anche questo è Roma. Nel 92, in Campidoglio, organizzai un seminario sull'idea di Roma, in cui intervenne Carinar Ratzinger e mi colpì molto la conclusione della sua relazione, in cui parlava della Roma che aveva conosciuto, ma anche dei problemi di Roma, e concludeva secco con una citazione di Rutilio Namaziano, che faccio mia, ordo rinascendi est crescere posse malis, cioè l'essenza della rinascita è crescere attraverso i mali. Io credo che i mali di Roma e gli sguardi pieni di simpatia per questa città sono un terreno prezioso in cui la città può rinascere. grazie. Grazie davvero Andrea per questa tua galoppata nel tempo e nel tempo di Roma, ricchissima di spunti di cui provo a riprenderne alcuni, in particolare quello che è poi l'intento fondativo di queste conversazioni romane, e cioè a renderci conto di chi siamo, come tu dicevi in conclusione, attraverso gli occhi degli altri, in questo caso attraverso gli occhi di Gogol, perché se dovessimo farlo a partire dai nostri occhi avrei qualche dubbio che avremmo mai cominciato queste conversazioni. Quello che tu hai definito, ma non solo tu, spesso il carattere un po' scettico dei romani, lo scetticismo dei romani su se stessi e sulla loro città è uno dei fattori impedenti, almeno finora, di una coscienza di noi stessi ed anche delle responsabilità che portiamo come romani, le portiamo non verso noi stessi, ma le portiamo verso il mondo, perché Roma è del mondo. Sapete quante Roma esistono al mondo? Credo una settantina più o meno, di cui la gran parte negli Stati Uniti d'America che, come sappiamo, nella loro fase fondativa fecero di Roma un modello anche istituzionale, basti pensare al Campidoglio. Se dovessimo invece cercare questa voglia di Roma, questa curiosità di Roma in altre città italiane, beh, faticeremmo molto a farlo, anzi, come sappiamo, troveremmo molto spesso delle posizioni ostative. Ma qui forse sta anche la magia di Roma, che è difficilmente contenibile nella sua struttura istituzionale di capitale della Repubblica Italiana o prima del Regno d'Italia, essendo per sua storia e vocazione una città universale, nel senso del richiamo universale che ha. E qui il tuo riferimento alle preghiere di Gogol, lui ortodosso, nelle nostre chiese barocche o, chissà, in qualche basilica paleocristiana, mi fa pensare quella che a me pare essere una differenza costitutiva fra il cristianesimo cattolico e il cristianesimo ortodosso, cioè la pulsione ecumenica, universalistica della cattolicità e la pulsione, direi, proprio imperial-russa, del cristianesimo ortodosso, che peraltro è tuttora, anzi ancora di più dopo le riforme costituzionali del 2020, centrale nell'identità russa affermata, sentita non lo so, ma affermata sicuramente. E quindi io credo che anche nella prosecuzione di questi nostri dialoghi sarà importante convocare, dopo Gogol, altre voci, magari qualche voce anche attuale, proprio per darci l'idea di quello che noi siamo di importante, di rilevante, di interessante ad occhi altrui. Altro riferimento importante che hai fatto è questo parallelo fra Parigi e Roma, fra gli odori e i profumi, tra la modernità di Parigi, la centralità culturale di Parigi e quella che era la Roma del primo ottocento e ancora per buona parte del secolo, cioè una città anche fisicamente ridotta, è una città che non aveva apparentemente una particolare organizzazione anche della vita quotidiana, una città che potremmo dire, se non fosse Roma, sarebbe stata classificata nell'ambito della provincia, piuttosto che del cosmopolitismo. E sì, credo che però qui ci sia anche un altro elemento, forse, ma qui chiedo, parlo naturalmente sotto il controllo di Rita Giuliani, credo che qui ci sia anche un elemento o coscientemente o involontariamente polemico, da parte di Gogol, nei confronti di quegli intellettuali russi filo-occidentali che vedevano in Parigi il riferimento massimo, particolarmente non solamente gli intellettuali russi filo-occidentali, in fondo la gran parte della classe colta russa parlava francese, parlava spesso molte altre lingue, tra cui il tedesco, essendo molti anche proprio etnicamente tedeschi, ma certamente il riferimento francese e della lingua e della cultura francese era fondamentale. Poi sull'amore verso i parigini, qui metterei qualche bemolle, ma questa è una questione... Sulla città, verso la città. Sì no, tu hai detto anche verso i parigini, ma insomma... No, verso la città. Ah, verso la città, va bene. Dei parigini verso la città. Ah, ok, ho capito male io, allora. Cioè, qui ci sono poi degli elementi anche antropologici nei quali non vale forse la pena di entrare. E un altro elemento che emerge da questa introduzione che ha fatto magnificamente Andrea riguarda la storia. Tu hai parlato dell'importanza di Roma come città storica e forse io credo che il declino di Roma sia proprio il fatto che è declinata la storia, cioè che la coscienza storica, non dei romani, degli italiani, ma di gran parte del mondo, diciamo più precisamente di gran parte dell'Occidente, sia un po' anche all'origine di questa scarsa percezione nostra di chi siamo e di che cosa rappresentiamo. E qui io spero che abbia ragione poi Rutilio Ramazziano, perché se fosse vero quello che dice, allora avremmo ottime speranze di recupero. Ma temo che il livello di appiattimento del tempo che stiamo vivendo in questa fase, per cui tutto sembra orizzontale, e anche una guerra così tragica come quella russo-ucreina viene vissuta come un fatto di tragica cronaca, in cui si vedono delle immagini ma non si scava in profondità su quello che sta accadendo, questo rifiuto della storia alla fine si rivela anche rifiuto di Roma, incoscienza di Roma, chiamiamola così. Questa mancanza di profondità storica poi permette le più acrobatiche identificazioni identitarie. in fondo Gogol vive in una fase in cui si comincia da una parte a vedere che la Russia nella sua relativa arretratezza proprio per questo comincia a sentire al suo interno l'emergere di tensioni antiimperiali nazionali, come quella ucraina per esempio, ma non solo, perché siamo alla vigilia di quella che sarà poi la repressione anche culturale, censoria, delle autorità russe e zariste nei confronti dei primi vagiti di una identità ucraina, per esempio con la proibizione della pubblicazione, della traduzione della pubblicazione della Bibbia in ucraino, che all'epoca non era considerata una lingua, era considerata una variante minore, piccolo-russa, non ucraina, del russo. Vediamo queste categorie riproposte pari pari, oggi, per esempio nel discorso di Putin, quando appunto parla dell'Ucraina dicendo no, non è Ucraina, è piccola Russia, come la Bielorussia fa parte della Russia ed è in qualche modo, sono i nostri cugini di campagna, non lo dice così, ma insomma credo dal fondo questo sia il suo punto di vista. Così come in quella fase viviamo il momento di particolare fervore della rinascita nazionale polacca, così come in quella fase succede sempre così quando rinascono questi nazionalismi piuttosto assertivi, l'antisemitismo e la repressione dell'elemento ebraico nell'impero e in particolare anche tra Russia e Ucraina, beh, diventa particolarmente evidente, quelli che saranno poi sentimenti traslati nel tempo fino ad arrivare in età sovietica, fino al complotto dei medici e quant'altro. E quindi quando noi parliamo di vicende attuali capiamo poco se non le inquadriamo in quel processo che è cominciato appunto nell'Ottocento con la crisi della legittimità imperiale, quella su cui in fondo Alessandro I aveva fondato quella sorta di governo mondiale che era il governo delle potenze europee, la Santa Alleanza e che vertiva sul principio di legittimità intesa imperiale, tra parenti poi fra l'altro. Ecco, quel principio entra in crisi nella seconda metà dell'Ottocento ma anche prima e la nascita delle nuove nazioni, tra cui la nostra peraltro da questa parte dell'Europa, segna una cesura storica che però non è mai stata completata, cioè la decomposizione degli imperi europei, il suicidio degli imperi europei non è compiuto, soprattutto non è compiuto in Russia. Però io penso che anche altrove assisteremo, già lo vediamo, a dei fenomeni di separazione all'interno delle nazioni, all'affermazione di tendenze balcanizzanti della cosiddetta Klein-Statter-Eye, cioè della parcellizzazione dello Stato, così come la chiamava Burkhardt, e che potrebbe riguardare anche questo Paese. Nel momento in cui tu perdi il senso della storia tutto è legittimo e nulla è legittimo. L'ho fatta troppo lunga, lascio senz'altro molto volentieri la parola alla professoressa Buonasera, io ringrazio gli organizzatori per questo invito, perché mi è particolarmente caro e piacevole parlare di Gogol, autore di cui mi occupo da tanto tempo, ma che continua sempre a rivelare, come tutti i classici, è un otre senza fondo, perché si trovano sempre cose nuove da approfondire, da capire, perché uno dei problemi di Gogol è il suo essere umanamente e letterariamente un essere misterioso. Gogol aveva una personalità estremamente complessa, era un uomo chiuso, si apriva pochissimo con gli altri, e anche la sua opera presenta bei problemi di interpretazione. E quindi adesso veniamo a Gogol e Roma, Roma che fu il momento di più alta felicità personale e felicità creativa di Gogol. Quale città conobbe Gogol? Com'era Roma ai tempi di Gogol? Era una città completamente diversa ovviamente dall'attuale e al momento dell'unità d'Italia il 70% della superficie della città era di verde. Si trattava di orti e delle gigantesche ville gentilizie che erano assolutamente straripanti rispetto al nucleo abitato che era notevolmente piccolo. E ho preparato delle immagini che fanno vedere la Roma dei primi dell'Ottocento e anche del Settecento. Come scrive Gogol, Roma è una città incredibile, è campagna e città insieme. Roma aveva questo elemento edenico, questo elemento assolutamente particolare, di essere una città sui generis in cui il verde predominava. Considerate pure che l'accesso alle ville gentilizie era aperto a tutti, bastava chiedere il permesso al guardiano di entrare, c'era questa abitudine di ospitare, di aprire le porte a chi lo desiderasse. Per cui Gogol trova una sorta di Eden in cui si tuffa con grande felicità. Questa è una veduta da Villa Ludovisi, questo Van Wittel precedente, questa Villa Albani che aveva la caratteristica nel Settecento di aver avuto un bibliotecario di nome Winkelmann. E che adesso è inaccessibile. E che adesso purtroppo è inaccessibile, spero di riuscire a vedere prima di morire, chissà. Questo è piuttosto vicino alla situazione attuale, Piazza del Popolo dipinta da un pittore russo, perché poi uno dei miei sogni sarebbe poter organizzare una mostra di pittura su Roma basandoci sui tanti quadri e tante opere d'arte russe ispirate a Roma. Da qui è Villa Borghese e qui vediamo la chiesa dei Cappuccini e via Sant'Isidoro come erano prima dell'unità d'Italia, degli interventi urbanistici devastanti che seguirono alla proclamazione di Roma capitale. E via Sant'Isidoro fu il luogo dove iniziò a soggiornare per la prima volta arrivato a Roma Gogol, poi si sarebbe spostato a via Sistina. E Gogol vive Roma come un paradiso, vive Roma come, è stato giustamente detto, come l'antitesi non solo di Parigi ma anche l'antitesi di Pietroburgo. Per lui, lui usa le stesse parole per connotare Pietroburgo e Parigi come luogo della prevalenza delle parole sull'azione, luogo della politica, luogo di una vita superficiale vuota. E una cosa che mi ha colpito quando lavoravo su Gogol è di aver visto su un giornale Moscovita del 1840, l'avviso in partenza per l'estero il funzionario di ottava classe, Nicolai Gogol. Cioè lui era un funzionario ufficialmente e invece a Roma lui era un uomo libero, nessuno si interessava quale classe burocratica, amministrativa appartenesse. A Roma era il signor Nicolò, amato e tollerato perché era un po' invadente da camerieri, trattori, amici artisti, ma era, si sentiva un uomo libero. Lui era soffocato dal tutto ciò che fosse burocrazia e in questo suo paradiso, che addirittura all'inizio gli aveva dato l'insonnia, era talmente eccitato dalla presenza, dal fatto di stare a Roma che la notte non riusciva a dormire, anche perché accanto alle ville, agli orti, ma c'erano i monumenti, c'erano i ruderi, c'era la Roma di Piranesi, c'era la Roma barocca e questo lo ubriacava e ciò faceva in modo che lui non vedesse l'altra Roma, la Roma cosiddetta delle sei pi, spero di ricordarmene tutte, papa, preti, principi, puttane, pulci e poveri, sì me le sono ricordate tutte, poveri, cioè c'era anche un'altra Roma che lui vedeva, ma vedeva attraverso i suoi occhiali. In una lettera all'amico Zhukovsky lui scrive con un'aria estasiata del fatto che in primavera erano particolarmente visibili delle formazioni marroncine che stavano vicino agli steccati e alle mura che i romani usavano come gabinetto. Quindi arrivava a questi punti nella sua adorazione per Roma, ma non era il solo. Per rispondere a un'osservazione fatta prima, anche Brozki, anche il grande Iosif Brozki amava la sporcizia di Roma, per noi è difficile da capire, e diceva che la sporcizia voleva dire sedimento storico, e Brozki lo scriveva negli anni 90, quindi ancora fino a 30 anni fa c'era questa idea di questa Roma totalmente bella, totalmente bella, anche nei suoi aspetti più degradati se vogliamo. E mi piace molto il fatto che oggi ci vediamo in occasione del Natale di Roma, perché anche Gogol partecipò appena arrivato, a tre settimane dal suo arrivo lui partecipò ai festeggiamenti e alle cerimonie per il Natale di Roma del 1837, e ne è rimasta traccia su un libro delle presenze dell'Istituto archeologico tedesco. E che cosa amava Gogol in Roma, cosa trovava Gogol in Roma? Gogol che aveva uno straordinario, una straordinaria sensibilità artistica, ma non solo artistica, anche intellettuale, aveva capito quale fosse il genius loci di Roma. C'è un bel libro sul genius loci di Norberg Schulz che dice che il genius loci di Roma è paradossalmente l'idillio. E Gogol coglie questa dimensione idilliaca e ne parla proprio, cita la parola idillio, è l'idillio, nel suo racconto Roma. E questa era una dimensione che coglievano in molti, per esempio il grande pittore Karl Brulof, l'autore dell'ultimo giorno di Pompei, una tela che portò all'entusiasmo romani, italiani, che fu accolta a Parigi con un certo distacco e poi fece furor a Pietroburgo e che è stata riportata a Roma in occasione della mostra Maestà di Roma, grande tela di scuola accademica, fece in una lettera un Calemburgo, molto efficace, Roma, io sono a casa. Perché era una caratteristica di Roma dovuta anche alla sua struttura urbanistica, il fatto di farti sentire incluso. Come scrive Brozki, se tu cammini per Roma è come se uscissi dal salotto e andassi in un'altra stanza, perché a Roma non vai mai fuori, uscendo in strada rimani sempre dentro. E anche Gogol aveva la sensazione di vivere non solo dentro la casa, ma dentro Roma, come se fosse a casa sua. E a Gogol capita di rivivere l'esperienza che era stata di Goethe, che era stata di Thorvaldsen, che era stata di tanti altri della seconda nascita romana. Per esempio il grande Bertel Thorvaldsen festeggiava, se non vado errato, il 5 marzo, come il suo compleanno romano, cioè il giorno in cui era arrivato a Roma lo considerava il giorno della sua rinascita. E Gogol pure parla di rinascita. Gogol a Roma rinasce. Aveva solo 28 anni, era giovanissimo, quando arriva a Roma, nel 37. Arriva nel marzo del 37, in tempo per assistere alle funzioni della settimana santa. Rimane colpito, rimane folgorato da tutto questo. E scrive poi a un amico a proposito della seconda nascita. Cito, scrive amico Zhukovsky nel 40 e confessa il suo desiderio perché poi era costretto ogni tanto a ritornare in Russia perché doveva sbrigare degli affari di famiglia. C'era la madre vedova, le sorelle, ogni tanto doveva tornare. E tornava con grande sofferenza, con grande dolore, e si portava presso gli spaghetti, e si portava presso il parmigiano, e invitava gli amici e gli faceva gli spaghetti burro e parmigiano. E poi con il pittore Aleksandr Ivanov diceva quando ritornerò nel mio paradiso e andremo a berci insieme la foglietta perché adorava anche la cucina romana in una maniera incredibile. E scriveva a Zhukovsky, confessando il suo desiderio, cito, di andare al più presto a Roma dove la mia anima morta risorgerà come risorta l'inverno e la primavera scorsi, di riprendere con fervore il lavoro e, se possibile, finire il mio romanzo in un anno. Roma aveva la capacità per Gogol, ma non solo, per quasi tutti gli artisti stranieri, di costituire uno stimolo potentissimo nei confronti della creatività. A Roma si vive, si mangia bene, si beve e si compone, si scrive, si dipinge. Roma, per gli stranieri, storicamente, ma tuttora, stimola enormemente la creatività. È un luogo che accende la creatività. E il fatto di aver penetrato così a fondo la natura di Roma, la ricchezza di Roma, fa sì che Gogol non si possa considerare semplicemente uno degli artisti che sono stati a Roma. Come diceva, come scriveva Rosario Assunto, il grande filosofo dell'arte, c'è una differenza tra gli artisti stranieri in Roma e gli artisti stranieri di Roma. Gli artisti stranieri di Roma sono quelli che hanno capito, colto l'essenza profonda estetica della città e che l'hanno fatta propria, riverberandola poi nelle proprie opere. E Gogol è un artista di Roma. E a Roma lui dedica questa stranissima opera, questo libretto Roma, che per più di un secolo è stato assolutamente trascurato dalla critica russa e anche dalla critica straniera. Considerato non più che una bella cartolina, ma il grande semiologo Lothman diceva anche i classici hanno delle opere che sono incomprensibili. Anche Gogol ha un'opera incomprensibile e quest'opera è Roma. Questo Lothman lo scriveva nel 62. Lavorando su Gogol, io è chiaro che do una mia interpretazione, perché Gogol è una sfinge. Un contemporaneo diceva, è un uomo enigmatico e chissà se un giorno lo si riuscirà a capire a pieno. E chi l'abbia capito a pieno non lo so, io ci ho provato. Ma prendetelo come una posizione personale. e quindi Gogol decide, Gogol a Roma, ecco c'è una premessa, Gogol non scrive Roma così. Gogol a Roma si convince che l'ideale dello scrittore sia quello di dare, di educare il proprio popolo. Bisogna considerare che sempre in Russia lo status dello scrittore è stato qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quello che è da noi o in genere in altri anche paesi. Lo scrittore è la voce della coscienza civile. Lo scrittore è quello che rappresenta un faro per la società. Questo anche perché in Russia, non essendoci libertà di espressione, non essendoci una stampa libera, l'unico modo per veicolare idee era la letteratura. Allora uno scriveva e faceva veicolare quello che voleva. e quindi Gogol, che oltretutto essendo figlio unico maschio di madre vedova, cresciuto in un ambiente familiare iperprotettivo, avendo un'altra considerazione di se stesso, si sentiva portato a un'altra missione. e a Roma lui capisce che cos'è, a che cosa è chiamato. È chiamato a far diventare, questo lo scrive in Roma, bisogna rileggerlo attentamente quest'opera, a far diventare l'uomo russo, l'uomo del nord, un uomo bello. Lui dice un prikrasni cilaviek, un uomo bello, bello in senso interiore ovviamente. e lui aveva questo culto dell'uomo bello, e lo scrittore, l'artista, doveva aiutare l'uomo in questa trasformazione. E a Roma gli era stato, ad esempio, il modus vivendi e anche la teoria estetica dei nazareni, che professavano l'ideale del pittore monaco, e che avevano tentato, intorno al 1815, di creare una piccola comune di artisti monaci nel convento di Sant'Isidoro. Gogol, erano diventati poi una leggenda cittadina. Gogol, appena arriva a Roma, vive proprio a Sant'Isidoro, e inizia a frequentare l'ambiente degli artisti tedeschi, e vede, trova questa consonanza con una sua aspettativa profonda, che era rimasta in uno stato letargico, con l'attività e il modo di operare, e le intenzioni, e la missione, la mission diremmo adesso, che si erano dati gli artisti tedeschi, che volevano coniugare arte e fede, proprio per portare l'utente, per portare la persona, lo spettatore, il lettore, a un innalzamento. E quindi Gogol, che oltretutto a Roma aveva trovato, realizzato un altro suo ideale, che era esattamente l'opposto del cittadino parigino o del cittadino pietroburghese. Era l'uomo libero, diciamo, era l'uomo del belli, era un popolano ricco di vitalità, di attivismo, un uomo di natura, era in realtà un uomo russoviano di natura, non corrotto dalla civiltà. Quindi l'arretratezza di Roma a lui stava benissimo, perché c'aveva i monumenti, c'aveva questa dimensione paradisiaca, gli uomini erano liberi e la politica sembrava assente, quindi veramente si sentiva in un altro mondo, in un Eden. Però, però c'era un problema gigantesco, che emerge già in Roma. E il problema era che lui, gli uomini belli, non li sapeva trattare. Nella sua produzione non ce n'è uno che sia un uomo bello, nel senso interiore. Lui riusciva a vedere la meschinità, riusciva a vedere le piccolezze in cui si perdeva l'uomo. Diciamo che lui vedeva negli uomini l'elemento, ecco, fantoziano. E infatti Paolo Villaggio disse di essersi ispirato anche a Gogol per il suo personaggio, per la sua maschera di fantozzi. Cioè c'è un modo di vedere l'uomo e il modo in cui lo vede Gogol è l'uomo perso dietro alle minuzie, che non ha una dimensione spirituale, che non ha una dimensione trascendente. È l'uomo che vive chiuso nella sua banalità, nella sua dimensione kitsch e che è felice e soddisfatto, che si fa la barba, si rade ed è entusiasta se i baffi gli sono venuti bene, che va a passeggio per far vedere i mustacchi e guarda i mustacchi altrui per vedere chi ce l'ha meglio messi, che si pavoneggia con i bottoni cercando il bottone più rifinito, perché questo era lui e lui lo sapeva e lui lottava contro questa cosa. E allora quando a Roma, grazie alle condizioni particolari in cui viveva, riesce a scrivere la prima parte delle anime morte, cosa che lui temeva di non riuscire a fare, perché lo stava masticando dal 1835. Viene a Roma e riesce a finire la prima parte delle anime morte, che escono nel maggio del 42. acclamate come finalmente il romanzo nazionale. Anche la Russia ha il suo grande scrittore, dopo che era scomparso Pushkin, ha il suo grande romanzo nazionale, che viene definito enciclopedia della vita russa, subito dai critici, Bielinski, ecco, le anime morte sono l'enciclopedia della vita russa. Piccolo particolare, Gogol se n'era andato via quanto prima dalla Russia, se n'era andato via quanto prima dall'Ucraina, conosceva poco e male la vita di provincia, quindi le anime morte non sono l'enciclopedia della vita russa, sono in realtà una discesa agli inferi, negli inferi dell'uomo senza qualità, negli inferi dell'uomo che vive una vita piatta, e a cui va bene questa vita piatta. E Gogol parla infatti in altri casi di orribile realtà, l'orribile realtà. Ma il problema suo è che lui sapeva di ingere solo l'orribile realtà. E allora, a Roma, esaltato dall'ambiente, innamorato della città, fa, secondo me, ma poi rileggetelo così, poi mi dite se siete d'accordo oppure no, tenta un'opera sperimentale, tenta Roma, dove mette per la prima volta un protagonista giovane, bello, che ha solo una vita interiore, perché non lavora, non fa niente, contempla dalla mattina alla sera. e guarda caso, questo uomo giovane, bello, non è descritto, non sappiamo come veste, non sappiamo come... cosa... sì, non abbiamo dettagli su di lui, non sappiamo il suo nome. Quando tutti i personaggi gogoliani hanno dei nomi, e sono dei nomi uno più buffo dell'altro, uno più ridicolo dell'altro, uno più cacofonico dell'altro, ricordiamoci che il protagonista del mantello o del cappotto o della mantella, come vogliamo, si può tradurre in vari modi, si chiama Akaki Akakievich Bashmachkin, che anche il russo è pesantino, Akaki Akakievich è una bella cacofonia. Il principe romano protagonista di Roma invece non ha nome, cosa stranissima, che non è gogoliana. vive di contemplazione, è stato a Parigi e ne è fuggito ed è tornato a Roma usando praticamente il paradigma del figlio del prodigo, perché lui si allontana, poi ritorna alla casa del padre, dopo, dopo essersi nutrito di nulla, dopo aver fatto veramente la vita del figlio del prodigo. Capita nel carnevale, capita in mezzo al carnevale e al carnevale viene folgorato da questa bellissima ragazza annunziata. Descritta questa in tutti i particolari della sua accecante bellezza, annunziata come il principe, non parla, non dice una parola, è poco più di una bambola meccanica. Il principe pure non parla, non c'ha una battuta. Pensa e pensava di parlare con Peppe, di chiedergli alcune cose, perché voleva ritrovare questa bella sconosciuta vista di sfuggita al carnevale e il racconto torna tre volte, una cosa stranissima, torna tre volte al punto di inizio, quando lui alzando lo sguardo viene folgorato dalla visione di annunziata e decide di conoscerla, si rivolge a Peppe, che è un popolano che forse era in grado di fargliela conoscere, iniziano a salire su per il gianicolo, non gli chiede niente, lui pensa alcune cose e abbiamo delle battute di frasi che il principe pensa e frasi che pensa Peppe. Arrivano in cima al gianicolo e il tramonto e il principe si affaccia alla balaustra che sta al gianicolo e inizia a contemplare Roma con tutti i colori iridescenti del tramonto e così Gogol conclude e dimenticò annunziata e dimenticò tutto quello che c'era al mondo e il racconto finisce così senza una trama senza una battuta senza con un finale aperto ma no più che aperto è un finale pietrificato il principe diventa di pietra perché in Gogol c'è questo procedimento che le persone si agghiacciano come belle mascherine o di fronte a situazioni particolarmente orribili o di fronte a un'estrema bellezza perché anche l'estasi può avere effetti paralizzanti e così il principe prima si paralizza di fronte annunziata poi si paralizza di fronte a Roma e tra l'avvenentissima annunziata e Roma lui sceglie Roma e quindi lui fa questo tentativo di un'anima bella ma poi con quest'anima bella non sa che cosa farci non sa che fargli fare e prova a sviluppare questi personaggi con una interiorità con una bellezza nel secondo volume delle anime morte e lì scoppia proprio la tragedia perché lui non ci riesce continua a scrivere continua a scrivere oltretutto sollecitato pressato da tutti che aspettavano questo questa seconda parte che lui aveva concepito come la divina commedia per cui le anime morte che sembrano l'enciclopedia della vita russa per lui costituivano l'inferno e questo è significativo di come sia di quale scarto ci possa essere tra l'interpretazione di un testo e l'intenzione dell'autore per cui il protagonista Ciccicofo doveva progressivamente fare un cammino di elevazione spirituale e diventare finalmente non mariuolo da mariuolo trasformarsi in una persona per bene ma non ci riesce e allora una prima volta Gogol dà fuoco al manoscritto delle anime morte a Roma nel 1845 e la seconda volta gli darà fuoco pochi giorni prima di morire e disperato in lacrime piangendo getta nel cammino di nuovo il manoscritto della seconda parte delle anime morte mentre il servo lo implorava in lacrime anche lui di non farlo e poco tempo dopo Gogol sarebbe morto quindi Roma da un lato ci ha regalato questo capolavoro delle anime morte ci ha regalato questa novella Roma che è una delle cose più belle scritte su Roma e con maggiore amore perché è tutto un inno alla città è tutto un encomio alla città dall'altro a Roma Roma diventa involontariamente ovviamente il motore che accelera la sua vocazione ha una missione la missione di salvare l'uomo russo e di farlo diventare bello fallisce non riesce mai a portarla a termine e da qui la sua disperazione sta il fatto che con l'uscita delle anime morte e con l'uscita di Roma Roma esce nel marzo del 1842 le anime morte escono nel maggio del 42 poi non pubblicherà più nulla se non un un volumetto edificante lettere brani scelti dalla corrispondenza con gli amici e continuerà a rimasticare per tutto il resto della sua breve vita perché muore nel nel 52 era nel 9 era del 9 quindi muore a 43 anni a rimasticare la seconda parte delle anime morte però io avevo posso andrò velocemente questa è la casa questa qui è la passeggiata del Pincio dove Gogola andava che amava molto ma è possibile che siamo già arrivati a questa è la casa dove è vissuta via Sistina dove è ritornato è una casa no 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 la biblioteca Gogola adesso sta la nazionale è finita la nazionale sì questo l'abbiamo visto questa è la casa di via Sistina 126 dove abitava questa era la passeggiata del Pincio che era stata edificata e aperta al pubblico pochi anni prima e Gogola ci andava molto e questa era la principessa Zinaida Valconskaya nella cui casa nel cui salone di Palazzo Poli lui conobbe sentì i sonetti del Belli e da russo da straniero sentendo il dialetto romanesco capì che si trattava di un genio e lo scrisse subito alla Balabina e poi durante un trasferimento a Marsiglia in nave ne parlò a Saint-Beouf determinando poi l'inizio della fama europea del Belli a Gogol che evidentemente parlava bene l'italiano ma forse ancora meglio il romanesco Gogol aveva capito di trovarsi di fronte solo all'ascolto di trovarsi di fronte a un grande genio e la principessa Valconskaya si era convertita al cattolicesimo e aveva anche cercato di convertire Gogol ma Gogol era un prima di tutto erano altri tempi e gli intellettuali erano molto aperti e lui era aveva un atteggiamento ecumenico ante litteram gli amici russi erano terrorizzati all'idea che potesse convertirsi e lui schissi alla madre ma state tranquilli ma in fondo cattolicesimo ortodossia sono la stessa cosa buoni state buoni ecco questo è Zhukovsky che era il precettore di Alessandro II grande scrittore che venne in visita a Roma e dipinse Gogol sulla terrazza della principessa della villa Valconsky che è attualmente sede dell'ambasciato sede della residenza dell'ambasciatore inglese e qui è Gogol al palatino a Villa Mills e qui questo è un disegno un paesaggio italiano di Gogol perché Gogol all'inizio della sua permanenza a Roma dipingeva come un matto poi regalò un album dei disegni a un amico pittore e quest'album è andato perduto quindi non abbiamo più i disegni di Gogol e poi ecco questo è il carnevale romano del 1839 a cui assistete da questo balcone anche lo Zarevich il futuro Alessandro II la cosa intrigante che anche qui ci sono voluti ci sono voluti più di un secolo prima che se ne accorgessero in questo quadro un particolare fa vedere l'ultimo l'ultimo dei quattro in camicia rossa è Gogol che partecipò al carnevale in maschera il fatto che Gogol fosse si fosse mascherato per carnevale in Russia non si non si sapeva e se si sapeva non si poteva dire per cui perché lui doveva entrare nel personaggio quindi non si poteva dire che Roma era talmente felice che se era mascherato aveva partecipato al carnevale e comeppure aveva partecipato come ospite di onore e questo si sa solo dalle fonti tedesche al carnevale dei tedeschi che si organizzava ai primi di maggio a Tor Cervara nelle caverne naturali di Tor Cervara gli artisti tedeschi mascherati pure loro uscivano da Porta Maggiore in maschera con fanfare perché poi si divertivano come matti lavoravano facevano cose meravigliose ma si divertivano differenza di noi no? si divertivano come matti e questa è il ritratto fatto da un diplomatico prussiano che è sepolto al testaccio August Kösner amico grande amico di Goethe il ritratto fatto da Kösner a Vittoria Caldoni che era una modella molto famosa e durante la seconda guerra mondiale l'originale di questo ritratto andò bruciato in un bombardamento però mi è stato possibile trovare una copia d'autore questa copia d'autore è a Pietroburgo e faceva parte della collezione di disegni di Zhukovsky perché poi all'epoca soprattutto a Roma ma non solo a Roma c'era veramente uno scambio culturale tra le varie nazionalità che era impressionante c'era una fratellanza questa la campagna romana questo un grande pittore russo che poi si rifiutò a Matviev di ritornare in Russia Polito Caffi questa è una foto e questo è il monumento che uno scultore russo ha voluto regalare al al comune di Roma a Cavaldonato non si guarda in bocca deve aver detto il sindaco dell'epoca però ecco volevo accennare una cosa spezzare una lancia in favore della letteratura perché la letteratura in realtà contiene la storia delle idee questo aureo libretto che ho avuto l'onore di presentare qui è un'antologia di poesia russa dell'Ottocento e leggendola attentamente uno vede come l'idea di Roma cambi di generazione in generazione passando dall'entusiasmo più alto dall'entusiasmo più alto fino all'odio Gogol rappresenta la punta della Roma filia e dell'italofilia russa dell'epoca questo questo poeta già ancora nel 46 parla di Roma in termini molto alti e deferenti ammirati guardate cosa viene dopo Carolina Pavloa la festa di Roma leggete? e allora posso evitare di leggere cosa c'è stato di mezzo di mezzo c'è stata una guerra di mezzo c'è stata la guerra di Crimea la sanguinosissima guerra di Crimea 1853 1856 che alla Russia costò 750.000 morti in battaglia fu la prima guerra tecnologica dell'umanità furono costruite addirittura delle ferrovie all'epoca insomma la ferrovia era stata inaugurata da poco per portare armamenti e la cosa traumatica per la Russia che aveva dichiarato guerra all'impero ottomano fu che le potenze occidentali si allearono con l'impero ottomano quindi la Russia si ritrovò da sola contro l'impero ottomano e le potenze occidentali perse la guerra e questa fu una ferita nella coscienza nel sentire comune della società russa terribile per cui cambia l'atteggiamento verso Roma e Roma che poi il russo è maschile e quindi è associata tutta una serie di immagini maschili Roma diventa nella coscienza russa diventa la patria della crudeltà della corruzione è la Roma del basso impero è la Roma del basso impero addirittura addirittura Fanasifet un grande poeta arriva a dire in pietoso Quirite io ti odio perché su questa terra tu vedesti te solo c'è una professione di odio siamo al 1858 e Slucevski più giovane l'anno dopo a Roma a Maliato scrive questa poesia Montepincio e la chiude dicendo oh Roma cara non osando amarti non osando amarti sarei pur pronto a dimenticare il supplizio dei fratelli al Colosseo la schiavitù di venti lunghi secoli non osando amarti e vabbè questo qui abbiamo fatto tardi già dal con un giovanissimo Liermontov c'è l'idea in Russia che l'Occidente sia agonizzante il tramonto dell'Occidente i russi lo fiutano molto prima di Spengler quasi un secolo prima e anche da Stajewski che pure aveva detto noi russi abbiamo due patrie la nostra russa e l'Europa però fa dire a Ivan Karamazov l'Europa è il più caro dei cimiteri è un cimitero ma è il più caro dei cimiteri ecco e adesso veniamo ai nostri giorni Gogol è vissuto anche ad Odessa nel 50-51 in casa dello zio questa casa era in condizioni come vedete disastrose qualche mese fa mi hanno mandato la foto del restauro che stava procedendo a Odessa io penso che dobbiamo tutti solo augurarci che il restauro possa proseguire il restauro non solo della casa di Gogol a Odessa ma il restauro anche di relazioni culturali profonde importanti umane grazie vita Giuliani per questa magnifica carrellata su Gogol poi magari ci dirai chi era il principe perché probabilmente qualche interpretazione c'è ma ci potranno essere delle interpretazioni su chi potesse essere oppure no no non interessa un illustre sconosciuto poi magari qualcuno dovrebbe poi dovrebbero anche spiegare ai russi che però Roma non c'entra con Torino non siamo stati noi va bene c'è qualcuno abbiamo qualche minuto ancora c'è qualcuno che vuole porre delle questioni delle domande o delle proteste siamo qui prego ho sempre avuto un grande rapporto con la letteratura avendo lavorato su Gadda su Borromini su certi scritti su certe cose ma anche molto su Gadda e farei un paragone tra Gadda secondo me e Gogol nel senso di questi stranieri perché milanese che vengono a Roma e fanno proprio a Roma come Pasolini mi sono trovato a fare un sogno che mi ha portato poi a organizzare una mostra lo dico brevemente un sogno di un russo con i baffi che praticamente ho associato poi a Gogol ma mi sono andato a rileggere e quando questo sogno così imperante mi ha poi condotto io spesso lavoro con la casualità con il caso mi sono trovato ecco sì mi sono trovato a creare mi è stata dal gallerista mi è stato chiesto di fare una mostra sugli orti sugli orti il grano il raccolto diciamo le serre e mi sono trovato a dover imperiosamente collegare oggi perché era assurdo fare una mostra non so perché c'è stato questo collegamento con Gogol mi sono andato a rileggere le anime morte e credo che il passaggio fondamentale e lo diceva la signora la signora in modo che io seguo molto le sue lezioni in internet il passaggio fondamentale è il problema che poi è molto anche rebelliana è anche gaddiana e il rapporto che lui ha nella ridicolizzare i personaggi per esempio mi viene in mente quel personaggio che poi che Ciccicoc incontra che pesca lo storione a un certo punto delle anime morte di ridicolizzare proprio le loro facce e dire lui è troppo troppo magro ma in realtà non è troppo ma non è troppo magro non è troppo grasso cioè questa cosa di mantenere l'indefinito ma anche proprio di prendere in giro cioè di creare una sorta di pittura dei personaggi cioè chiudo dicendo che secondo me l'auspicio più grande che noi possiamo avere proprio rispetto alla situazione che noi viviamo è che questa cultura un po' ucraina un po' russa che fonde che io ho trovato una fusione anche se lui è più russo culturalmente ma insomma però viene dall'Ucraina che porti al fatto di dire che in fondo anche i personaggi politici chi fa la guerra chi subisce deve essere ci deve essere una parte anche di presa in giro di questi personaggi una parte di vederli anche in un aspetto tragico come diceva la signora ci vorrebbe cogo esattamente e quindi ho trovato mirabile questa cosa di fare non ho potuto fare a meno di chiedere a lui un aiuto grazie se no vi ringrazio di cuore per la vostra presenza a Natalizia vi ringrazio soprattutto Andrea e Rita per questi meravigliosi contributi che ci hanno dato e poi Andrea organizzeremo presto da voi un'altra puntata delle nostre passeggiate romane grazie e buonasera grazie grazie a voi ci ha fatto capire grazie a voi grazie a voi grazie a voi